eccoci qua ciao a tutti e benvenuti in questo primo dei tutorial introduttivi e propedeutici a quelli che saranno i corsi che si terranno qua nel mio studio di registrazione allora in questo primo video vedremo insieme più o meno come funziona e come si presenta il layout di un mixer eccoci qua in questo caso stiamo utilizzando Cubase ma ciò che vi dirò potrà essere traslato su qualunque altra workstation su pro tools su logic ecco più o meno funzionano grosso modo tutta la stessa maniera magari c'è una piccola differenza a livello grafico magari nella dislocazione dei pulsanti però ecco sostanzialmente il contenuto è lo stesso il contenuto è lo stesso ecco allora guardando nel dettaglio cosa succede vedete che noi abbiamo delle channel strip praticamente tutte uguali assolutamente tutte identiche ciascuna relativa ad un canale diverso io in questo caso ho preparato una piccola sessione di batteria è una traccia di batteria che in questo caso sta suonando un campionatore un virtuale instrumente le cui uscite sono state suddivise per ciascuno dei componenti del kit quindi abbiamo l'uscita la traccia casa la traccia luna la traccia charlie la traccia tom ecco direi fin qui una suddivisione abbastanza canonica io ho preparato questa traccia è un semplicissimo gruppo di batteria suonato da un virtuale instrumente benissimo dicevo eccoci quale il nostro mixer noi abbiamo delle channel strip che sono le strisce di fatto in cui sono contenuti tutti i comandi relativi alla singola traccia partendo dall'altro noi abbiamo un pulsante per invertire se necessario la polarità cioè la fase un controllo di volume in ingresso cioè il cosiddetto trim abbiamo degli slot che sono gli insert cioè degli slot in grado di contenere effetti che andranno a processare il 100 per cento della traccia mi spiego meglio anzi vi faccio vedere meglio in questa eccoci qua in questa finestra sostanzialmente quando io vado ad intervenire su un suono posso farlo in seriale cioè in insert oppure in parallelo cioè attraverso una mandata se io accendo in insert per esempio un equalizzatore il 100 per cento del mio suono verrà equalizzato e di conseguenza restituito in coda alla catena è pronto per essere ulteriormente processato oppure per raggiungere il fader di volume per avere il controllo finale se io invece decido di mandare una copia del mio suono in questo caso fx 1 è un riverbero anzi lo rinomino qui così diventa anche più facile da vedere se io decido per esempio di mandare ecco qua la mia traccia ad un riverbero attraverso una mandata io di fatto cosa faccio con un fader di volume mando una copia del mio segnale a questa unità di effetto in questo caso un riverbero quindi ricordatevi sostanzialmente che la grossa differenza fra seriale e parallelo è che in insert cioè in seriale io processo la totalità del suono mentre invece con le mandate in parallelo mando una copia di grandezza che posso decidere a seconda di quanto incremento il volume con il fader una copia del mio suono quindi io mantengo il suono originale ed in più ne aggiungo tra virgolette una copia effettata questo è assolutamente disponibile in ciascuna channel strip del nostro mixer attraverso gli insert ed attraverso le mandate qui abbiamo il pan che è il controllo di posizionamento stereofonico vi faccio un esempio molto semplice eccomi qua metto in solo una traccia di rullante muovendo il pan posso portare la traccia completamente a sinistra oppure completamente a destra oppure in una posizione intermedia queste sicuramente sono cose che molti di voi sapranno molti di voi daranno già per scontate ma siccome io preferisco non dare nulla per scontato come dire preferisco ripetere una volta in più casomai ci fosse qualcuno che ancora non si è avvicinato a questo genere di argomenti tornando a noi se io decido per esempio di attivare in questo caso un plugin che mi emula sia un comparto di equalizzazione sia un comparto di compressione questa di fatto è la channel strip esattamente come potrebbe essere in questo caso è proprio un emulazione di un di un vero banco mix questa è l'emulazione di una channel strip fisica di un solid state 4000 quindi un ssl 4000 uno dei banchi più famosi del mondo e soprattutto più usati in mix se io decido per esempio di attivare questa channel strip nel primo insert della mia traccia di cassa io vedete che aspettate che ho dato per scontato che essendo mano la cassa fosse necessario caricare una channel strip mono ma quando si usano i vst instrument tutte le uscite sono stereo di default quindi ricarico lo stesso plugin in stereo eccoci qua io in questa maniera posso assolutamente come vi dicevo muovere i miei equalizzatori andando a cambiare la totalità del mio suono vorrei portare l'attenzione con voi su una cosa che secondo me è spesso trascurata ed invece è assolutamente fondamentale e cioè l'importanza del trim in ingresso allora tenete presente che quando mixate la cosa più importante è la gestione corretta eccolo qua zero è la gestione corretta dei livelli vi faccio un esempio provate ad immaginare guardate se io mando in play questa traccia che arriva ripeto da un virtual instrument quindi a un livello perfettamente calibrato tutto in ordine io ho un volume che arriva direttamente all'uscita di meno 5.5 i meter del mio plugin in ingresso e in uscita hanno un volume corretto nel senso che non accendono mai la luce rossa quindi non clippano e diciamo che fondamentalmente è tutto corretto però se io per assurdo alzo il livello di guadagno in ingresso per simulare una traccia registrata in maniera scorretta cioè con un volume di ingresso troppo alto guardate io come accendo il mio plugin già ho un livello talmente alto da mandare in saturazione l'input del mio plugin in questo caso io posso risolvere trimmando verso il basso il volume una cosa che vi consiglio di fare è di tenere d'occhio i livelli in tutti gli step del vostro processing audio nel senso se io arrivo con un livello corretto all'interno del mio plugin in questo caso nella mia channel strip della SSL decido che ascoltando la mia cassa è troppo asciutta ha bisogno di un pochettino di basse do un po' di basse piccola parentesi io non mi formalizzo assolutamente sulle frequenze da scegliere il quanto dare sto lavorando in maniera volutamente grossolana solo per portare la vostra attenzione su alcuni concetti poi ovviamente durante i corsi vedremo quali sono le frequenze migliori da boostare ecco migliori forse la parola sbagliata diciamo tipiche da boostare o da tagliare nei vari strumenti compresi in questo caso la cassa della batteria comunque tornando a noi io non vado neanche a toccare il potenziometro che mi permette di selezionare la frequenza da boostare guardate era su 60 lo lascio su 60 non mi interessa io semplicemente boosto supponiamo che a questo livello anche in questo caso ragionando per assurdo perché il suono della cassa è veramente eccessivamente boostato sulle basse però supponiamo che questo sia il suono che desiderano uno degli errori più comuni è quello di dire attenzione il led della traccia della mia workstation in questo caso cubase vedete che è al limite dello zero faccio così ma questo mi riporta apparentemente a posto il mio led di cubase del mio mixer di cubase che in questo caso è l'uscita del canale ma guardate non risolve il problema qui in questo caso io riporto a zero il mio led e risolvo nuovamente il problema col trem in ingresso questo mi permette di mantenere la mia equalizzazione esagerata sulle basse senza clippare l'ingresso del plugin e di conseguenza arrivando fino alla fine della mia catena audio cioè fino all'uscita del canale con un livello corretto quindi riassumendo l'utilizzo corretto del trim il controllare i livelli in ogni step io in questo caso sto usando un plugin solo ma potrei averne due tre quattro cinque che lavorano in tandem sulla stessa traccia controllare i livelli di ingresso e di uscita di ogni plugin e soprattutto farlo dall'inizio della catena col trim è forse una delle cose più importanti e direi sicuramente basilari per un buon mix perché in questa maniera io sono sicuro di lasciare headroom cioè volume disponibile ad ogni mio processore per poter lavorare non lo mando a schiantare contro lo 0 db ok proseguendo io ho la possibilità di virtualmente riempire tutti gli slot che voglio con altri plugin che possono essere equalizzatori compressori limitere tutto quello che è necessario insomma guardate io ho 8 insert di cui però gli ultimi due sono contrassegnati in giallo guardate cosa succede se ritorno alla mia situazione di prima cioè mando in clip il plugin ripeto muovendo il fader non succede assolutamente niente alzo abbasso il volume in uscita ma è come dire che io distorco il suono e poi ne modulo il volume del suono però già distorto se io azzero il fader e vado a mettere lo stesso plugin con la stessa regolazione vedete neanche se chiusa la finestra in uno dei due insert gialli problema risolto questo perché gli ultimi due insert di Cubase sono post fader quindi io posso controllare il volume di ingresso tramite il fader il fader non controlla più il volume di uscita dopo il plugin ma il volume di ingresso prima del plugin è come se fosse una sorta di secondo trim voi direte perché mettere il fader in ingresso se già c'è il trim la risposta è molto semplice perché io in quasi tutte le workstation come del resto anche in Cubase ovviamente ho la possibilità di automatizzare il volume di ingresso io ho la possibilità di creare allora eccolo qua ho la possibilità di creare una curva di volume programmata attraverso vedete che il fader si muove da solo attraverso l'utilizzo del fader quindi io posso se ho solo alcuni punti in cui il mio suono va in clip posso andare con l'utilizzo del fader a regolare il volume in ingresso in maniera programmata eccoci qua questo quindi per quanto riguarda l'utilizzo e l'importanza del trim in funzione di tutto ciò che poi viene messo in insert l'altra metà dicevamo del processing del canale di un mixer avviene attraverso le mandate in parallelo vi apro la traccia di rullante in questo caso perché per esempio uno degli utilizzi classici è quello di prendere un suono e assegnare a questo suono un riverbero chi non mette un pochettino di riverbero sul rullante della batteria è praticamente uno standard però se voi prendete in questo caso questo plugin che io ho spostato su un'altra traccia lo metto qui se voi prendete questo plugin di riverbero lo mettete in insert il risultato è questo che è decisamente terribile questo avviene perché io ho riverberato il cento per cento del mio suono e quindi adesso senza star qui a descrivere la bruttezza nello specifico di questo suono però fondamentalmente io mi trovo con un suono eccessivamente riverberato vorrei una vorrei una via di mezzo per ottenerla eccomi qua rimetto il riverbero su questa traccia che è una traccia dedicata contenente il solo riverbero dopo di che metto in play il mio rullante attraverso la mandata seleziono la mia traccia riverbero zero il fader levo e tolgo il solo se no come se non la riconosce sentite se esagerò mi ritrovo in una situazione di prima ma qui posso controllare posso controllare la quantità di copia di segnale del rullante che attraverso la mandata manderò al riverbero che mi restituirà 100% effettato di modo che io avrò la somma della traccia dry quella di partenza dry si intende senza nessun effetto gli americani dicono dry nel senso di asciutto e wet è la traccia bagnata nel senso di bagnata di effetto in questo caso io ho il 100% del suono dry nella mia traccia originale il 100% del suono wet in ritorno da questa traccia riverbero che vedete qua vi sto indicando con la freccetta la quantità di rullante da mandare all'effetto la decido attraverso questo fader questa sostanzialmente questo sostanzialmente è il concetto di mandato ecco queste poche cose che vi ho detto sono più o meno l'abc del funzionamento del routing interno di un mixer spero che vi sia di aiuto e buona sperimentazione ci vediamo al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti